Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, precisamente in via Emilia, angolo con via Lucania, a pochi metri da piazza Sicilia, da via Liguria e a pochi metri appunto dal mercato. Vogliamo denunciare una situazione che è presente, che non viene risolta da anni, ossia vedete la segnaletica stradale, mi riferisco alla segnaletica orizzontale che appunto non viene rifatta. Nella fattispecie abbiamo le strisce per l'attraversamento pedonale che sono completamente cancellate, evidentemente non vengono rifatte da anni e da anni. Non è un aspetto formale o un aspetto estetico, ma un aspetto sostanziale, un aspetto fondamentale che riguarda la sicurezza, proprio perché la zona è trafficatissima. Quanti anziani, quante nonnine, ma anche quanti giovani vanno al mercato per fare un esempio e vanno a fare la spesa? Le macchine transitano, le auto transitano e allora ovviamente le strisce pedonali sono fondamentali per la sicurezza. Vedete, sono completamente cancellate e tanto più sono cancellate, tanto più vuol dire che negli anni, nel corso degli anni, non sono state rifatte. Vedete, una persona non chiede all'amministrazione comunale chissà che cosa, purtroppo i tarantini si stanno abituando a subire schiaffi e calci a causa dell'inquinamento ambientale, a causa della crisi occupazionale, ma almeno la vivibilità urbana, quel minimum di sicurezza ce lo volete dare? E allora l'appello al sindaco, affinché all'amministrazione comunale, affinché vengano ripristinate, vengano ripittate, passatemi questa espressione, queste benedette strisce pedonali. Sono completamente scomparse. Questo, non stiamo chiedendo nulla, è ordinarissima, banalissima amministrazione. E non stiamo parlando di una delle periferie abbandonate, una di quelle periferie in cui non passa nessuno. Qui provate a farvi un giro la mattina e vedete il via vai, vedete le persone che attraversano. Poi cosa dobbiamo aspettare? Che qualcuno venga investito e che si vada a piangere l'ennesimo morto? E che poi vengano additte le vie legali nei confronti del comune? Su via, sistemiamo queste strisce.